Buongiorno, volevo parlare un attimo di Lobotka perché nelle prime due partite qualcuno ha osservato che non voglio dire meno coinvolto nel gioco però passano meno palloni dai suoi piedi. Questa è, le chiedo, anche una scelta tattica per levare un punto di riferimento agli avversari o c'è la volontà di sviluppare qualcosa di nuovo rispetto al passato? Io il passato non lo conosco quindi non posso dirti se sto sviluppando qualcosa di differente. Io faccio il mio calcio e vi spiego una cosa. Una squadra che dipende solo di un giocatore, sia un centravanti che fa solo lui dei gol o solo un playmaker che fa solo lui le giocate, è una squadra in pericolo. Perché basta che l'adversario ti chiude il tuo punto forte e sei veramente in grande difficoltà. Invece nella nostra squadra e nella mia squadra io voglio che i centrali, i tersini, Frank Zambonghisa, Zielinski, Elmas, Jenskayus, tutti quelli che possono giocare al centrocampo possono dare anche una mano sulla costruzione del gioco. Non solo Stan che ovviamente è esperto in questa cosa e quindi anche a me va bene che a volte lui toccherà meno palloni, basta che gli altri le fanno e lo fanno bene soprattutto. Il mattino. Sì, buongiorno. Buongiorno. Quanto è già il Napoli che lei aveva in mente? E la seconda che le volevo chiedere è quanto teme questa Lazio e questo Sarri che per Napoli ricorda un periodo straordinario di una squadra che dava spettacolo anche se non ha vinto poi lo scudetto. Grazie. È una squadra di qualità, questo è ovvio, poi non sono al loro posto visto che sono tra i ultimi, hanno 0 punti su 6, quindi l'urgenza di punti per loro c'è ovviamente, quindi non so che possiamo aspettarsi, forse una squadra della Lazio chiusa e dobbiamo gestire anche questa situazione di essere bravi a crearsi dei spazi e non solo avere delle occasioni ma di fare dei gol. Però poi io direi che non importa chi abbiamo di fronte, importa noi in primis perché io cerco sempre di gestire la gara e quindi su questa cosa non siamo ancora al 100% ovviamente, però miglioriamo, miglioriamo perché alcuni giocatori tornano con una preparazione già più completa grazie alle due prime e ultime partite di campionato. Alcuni hanno quasi finito la loro preparazione durante le due prime di campionato e quindi è anche normale che non siamo ancora al 100% soprattutto perché dobbiamo durare, non è che a fine novembre tutto si ferma e poi possiamo riprendere fiatto e no, si giocherà anche, sembra a Natale o a Capodanno, no? E quindi dobbiamo durare e per questo è importante che la Rosa sia anche pronta a rispondere alle mie domande e non solo con un 11 titolare dall'inizio, questo è ovvio. Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ha cambiato il mercato nell'economia del campionato nelle ultime giornate? Cioè con l'arrivo di Lukaku ed eventualmente con altri arrivi, si sono assottigliate le distanze tra il Napoli e le altre? Pensavo che lei parlava dei soldi dell'Arabia Saudita soprattutto, no? In termini di mercato. No, no, parlavo invece dell'arrivo di Lukaku. No, nella mia squadra, io mi concentro sulla mia squadra, basta che noi ci prepariamo bene, giochiamo bene. Ovviamente già ho risposto a questa cosa, ci sono altre squadre forti in Italia, e non è che vado a nominarle tutte, le conoscete meglio di me, però noi lotteremo al massimo per rimanere in alto, per il momento su sei punti su sei, non è che la classifica conta, però sono i punti che contano, quindi basta che facciamo nove su nove e poi vedremo dopo. Sai, c'è sempre una squadra sulla carta e poi c'è sempre l'espressione della squadra sul campo, quindi anche per la nostra è così, dobbiamo esprimersi bene calcisticamente, perché questo ti porta a fare delle vittorie sulle altre, non posso dire granché per il momento. Canale 8, 15-20 minuti nell'ultima partita nei quali il Napoli si è abbassato, lo ha sottolineato anche lei ed era una cosa che non le era piaciuta. No, non è che mi è piaciuta, ma poi rispondo, scusa per l'interruzione. No, prego, è stato un fatto occasionale, è stato determinato dall'atteggiamento dell'avversario, è stata una scelta anche per il caldo forte che c'è stato in questi giorni, ma se invece è un motivo di preoccupazione per lei, considerando che poi il Napoli va ad affrontare una squadra come la Lazio, che è molto tecnica e capace di giocare tra le linee e può diventare pericolosa qualora i suoi ragazzi si abbassassero ancora tanto per un periodo di tempo abbastanza consistente. Grazie. C'è un po' di tutto, non è che giochiamo noi da solo 11 contro 0, c'è l'avversario, come lei ha detto, che può essere anche bravo, e il Sassuolo è bravissimo nel palleggio. Poi c'era, come lei ha detto, forse una situazione che piano piano sparirà con queste temperature che anche alle 20.45 per le due squadre è molto difficile tenere un ritmo di gioco, ma poi è tutto al contrario di essere inquieto su questa cosa. A me piace anche che se la gara vuole, che è un momento, siamo un po' più bassi e lasciamo la pala, basta che non concediamo niente all'avversario. E così è stato in questi 12 minuti contro il Sassuolo. Quindi ci servirà questa cosa. Non conosco nessuna squadra, neanche il City, che è dominante 38 partite di campionato su 38, 90 minuti, adesso è più 100 minuti, su 100 minuti, perché ci sono rivali, ci sono momenti, e questo vuol dire che la squadra spero che potrà avere anche questa qualità. Radio CRC Salve signor García Salve Salve Una domanda su Osimen Sì Tra i centravanti che lei ha avuto in carriera, ne ha avuti di veramente fortissimo. Ci dice più o meno Osimen dove si piazza, che ha già fatto tre goli in campionato, poi ci dice anche a che punto è l'inserimento di Nathan nel gruppo. Grazie Natano ha già risposto, lasciatelo tranquillo, è un giocatore, non so come dite voi, che ha bisogno di svilupparsi, no? Ancora in sviluppo, io direi così, perché deve imparare ancora tante cose, però anche lui avrà il suo momento, come tutti quelli che sono arrivati e tutti quelli che sono in rosa, sperando che avrò meno infortunati possibile. Su Victor non è che possiamo fare un paragone nella storia, perché ha 24 anni e spero che sarà in grado di fare ancora tante grande stagioni e soprattutto con noi. Però in questo momento nel calcio attuale mondiale è uno dei più forti, questo è ovvio. Ultima, Napoli Magazine. Da giugno al primo settembre, che bilancio possiamo fare del primo Garzia napoletano che sta vivendo questa nuova avventura? Chiaramente le pressioni sono gestibili perché la squadra è forte e poi volevo chiederti se era possibile per sapere l'ambizione personale, cioè a lungo termine quale può essere di Garzia con questo Napoli, con questa squadra e con queste convinzioni che stai portando avanti. Sempre complicato rispondere a due domande a testa perché spesso mi ricordo la prima ma non la seconda, però faccio uno sforzo mentale per ricordarmelo. Inizio sul fatto che io sono felice, sono contento di lavorare qua con i miei ragazzi, il mio staff e poi sto imparando un po' la città e il contesto, voi e anche tutte queste cose qua. Però l'importante è vincere le partite, l'abbiamo vinto le due prime, quindi concentrazione massima su quella di domani e così via avanti. Come ho detto, mi ricordo l'altra. No, no, ma è la stessa risposta, tutto bene, tutto motivato, tutto contento, tutto avanti. Allora guarda, normalmente diciamo per i politici forse che dobbiamo giudicare dopo cento giorni, invece non ci siamo a cento giorni, ci siamo quasi, ma non ancora. Grazie.